Incappucciato e costretto a salire sull'auto dei rapinatori, poi rilasciato dopo circa un'ora nelle campagne tra Minervino Murgia e Cannosa di Puglia, il suo mezzo con a bordo merce da 10.000 euro sparito nel nulla. E quanto accaduto ad un autotrasportatore sessantenne di Bitonto, nella mattinata di giovedì 19 ottobre, l'uomo stava percorrendo la tangenziale di Bari ed era diretto a Gioia del Colle, a bordo del suo tir trasportava generi alimentari ad un certo punto è stato affiancato da un'auto di colore scuro, con a bordo almeno tre persone armate e con il volto coperto, i malviventi lo hanno costretto a fermarsi e a scendere dal mezzo, uno di loro si è messo alla guida del camion, mentre l'autotrasportatore è stato subito incappucciato e fatto salire a bordo dell'auto, dopo oltre un'ora è stato lasciato a ridosso della strada che collega Minervino Murgia a Cannosa, a quel punto il sessantenne ha chiamato i soccorsi, l'uomo è stato raggiunto dagli agenti di polizia di Stato che hanno raccolto la sua drammatica testimonianza, secondo quanto emerso sta bene e non sarebbe stato aggredito dai rapinatori dei quali si è persa ogni traccia, così come del mezzo con a bordo circa 10.000 euro di prodotti alimentari, in queste ore sono in corso le indagini per provare e identificare gli autori della rapina.